Siamo a Parigi alla convention di FIGEMPA per celebrare i suoi 25 anni di attività, una realtà che è sempre cresciuta in tutto questo tempo e oggi ha dei progetti estremamente ambiziosi di crescita, di fare bene nel suo mercato che è quello della cessione del quinto. Siamo qui insieme a Massimo Bracpapa, uno degli agenti di FIGEMPA che guida Edera da moltissimi anni un grande esperto di questo settore. Ultimamente però ha scelto il progetto FIGEMPA. Come mai questa scelta? Ho scelto il progetto FIGEMPA perché dopo aver passato tanti anni con Futuro che ci ha sicuramente aiutato tanto, fatto crescere, sentivamo il bisogno di avere un socio e dopo aver valutato bene, abbiamo deciso di scegliere FIGEMPA perché loro hanno un progetto molto importante e soprattutto hanno capito quanto a noi ci si tenga a far sì che Edera continui col suo marchio e che rimanga un'azienda autonoma. Questo Ivo l'ha capito, c'è da dire che io e Ivo siamo amici da più di 30 anni, mi sento molto vicino a lui e ho visto anche oggi come la sua azienda abbia un senso di appartenenza molto forte e ci siamo trovati subito bene. Indubbiamente noi eravamo abituati a lavorare con Futuro in una certa maniera, con loro si lavora in una maniera un po' diversa perché loro hanno le filiali quindi loro sono specializzati con le filiali. Noi siamo un agente che fa dei numeri abbastanza importanti quindi anche loro stanno facendo un grande sforzo per venirci incontro, per far sì che il prodotto sia sempre più snello e veloce. Noi lavorando tanto su internet abbiamo bisogno di avere la velocità quando vendiamo altrimenti il cliente che oggi fa una richiesta su internet ne fa 10 quindi il più veloce vince per cui con loro stiamo cercando di dare un assetto ben preciso sotto questo punto di vista. Internet, da quello che noi sappiamo Eder è stata la prima agenzia ad andare su internet e creando un proprio sito per cercare nuovi clienti. Sì sì nel 1996 abbiamo deciso di fare questa esperienza che si è rivelata vincente tant'è che poi nel 2009 Google ci ha premiato come case history perché noi riuscivamo ad avere parecchie richieste pagandole poco in confronto agli altri. Questo è un mercato importantissimo che cambia tutti i giorni, noi ci rendiamo conto che quello che facciamo oggi domani è obsoleto. Però insomma è talmente da tanti anni che siamo lì che riteniamo giusto continuare e cambiamo tutti i giorni però perché questo mondo è veramente pazzesco, non riesci mai a dare un assetto pensando che questo possa continuare per un periodo lungo. È una cosa che cambia in continuazione, in evoluzione, i clienti oramai sono abituati ad avere una risposta subito. l'85% delle persone che fanno un acquisto su internet e per acquisto io non intendo solo un finanziamento ma qualsiasi cosa lo fanno per uno stato emotivo, un acquisto di impulso quindi se tu non gli rispondi immediatamente questo non lo fa più e questo è una cosa che con FIGEMPA stiamo cercando di organizzarla bene per cui sicuramente anche loro ci daranno grande supporto su questo. Grazie a tutti.